Buon pomeriggio a tutte e a tutti e ben trovati per questo nuovo appuntamento del ciclo a lezioni di scienza di Mondador Education. Per chi ancora non mi conoscesse io sono Paola Priore e coordino l'area delle scienze naturali e integrate della redazione scientifica SS2. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il liceo educandato statale di Angeli di Verona, la persona della professoressa Angela Cristalli e con lei il dirigente del Dipartimento di Scienze. Tutti loro infatti ci hanno fornito lo spunto per questo intervento e noi abbiamo subito raccolto la loro richiesta e grazie alla nostra partnership con Fondazione Umberto Veranesi abbiamo oggi il piacere di ospitare in realtà un gradito ritorno per il dottore Marco Noni. Ciao Marco, benvenuto. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te. Marco è ricercatore in bioetica presso il Centro Interdipartimentale di Etica e Integrità della Ricerca del CNR, è anche coordinatore del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veranesi e direttore della rivista di Future of Science and Ethics. Con lui parleremo ovviamente di bioetica e di come il progresso tecnico-scientifico che sta trasformando le nostre vite, lo sappiamo bene insomma, in quest'anno di pandemia e diciamo quei vaccini che poi ne sono seguiti e quindi sta trasformando le nostre vite, le nostre società, il pianeta su cui viviamo e questo progresso deve essere accompagnato anche da una robusta consapevolezza etica. Prima di lasciare la parola a Marco, vi ricordo che se avete domande durante la presentazione potete sottoporcele tramite il modulo fruibile da più racconso del presso. Al termine della presentazione infatti dedicheremo circa una decina di minuti per rispondere alle vostre curiosità e avviare un piccolo dibattito. Ora lascio la parola a Marco e buon proseguimento. Grazie, grazie di nuovo dell'invito. Io come è stato detto infatti mi chiamo Marco Annoni e mi occupo di etica e di bioetica e oggi quello che vorrei fare con voi in questo webinar è proprio esplorare quelle che sono le connessioni oggi tra la scienza e il progresso tecnico-scientifico soprattutto nel campo delle scienze della vita e le implicazioni etiche. E questa è una questione enorme, molto affascinante e che io spero di riuscire a spiegarvi secondo me della quale parliamo ancora troppo poco e molti ne sanno ancora purtroppo troppo poco. Perché dico purtroppo? Perché le implicazioni di queste nuove tecnologie che abbiamo scoperto solo pochi anni fa e che oramai sono già entrate a regime, già producono i loro primi effetti potranno concretamente cambiare in maniera radicale la vita delle future generazioni e forse già delle generazioni che sono con noi oggi e abitano il pianeta. Per farlo vorrei partire da un passo indietro, cercare di spiegarvi un po' che cos'è la bioetica, che cos'è l'etica, di che cosa si occupa e di come viene gestito oggi a grandi linee il rapporto tra scienza ed etica, o più in generale tra l'innovazione e le conseguenze morali, quello che è giusto e quello che è sbagliato. E quando introduco questo tema mi piace anche a lezione, quando faccio lezione all'università o ai professionisti sanitari di bioetica, partire con delle storie concrete, perché sono delle storie che ci aiutano subito a inquadrare la serie di problemi che poi andremo a toccare più avanti durante questo webinar. E vorrei partire con questa che è la storia di Seattle e del primo prototipo per la macchina per la dialisi, più o meno verso gli anni 70 e all'epoca le persone che avevano dei problemi renali, quindi dei problemi ai reni, in molti casi, se le patologie erano molto gravi, non potevano fare niente, quindi l'unico orizzonte di vita che avevano era tamponare alcuni dei sintomi, ma sostanzialmente arrivare a una condizione e poi dopo alla morte. A un certo punto arriva la prima macchina per la dialisi che funziona benissimo, quindi è molto efficace, può aiutare concretamente le persone, però c'è un problema fondamentale. Cioè la macchina per la dialisi è solo una e le persone che invece hanno bisogno di il trattamento sperimentale sono moltissime. e quindi si provoca una conseguenza, una questione di etica e di bioetica, cioè arriva una nuova tecnologia, la macchina per la dialisi, però questo arrivo porta con sé non solo delle possibilità pratiche, ma anche delle domande di morale e di etica, in questo caso chi deve vivere e chi deve morire, chi può accedere alle ore di allacciamento alla macchina sperimentale e chi invece non può. Come hanno fatto a decidere? L'hanno fatto istituendo uno dei primi comitati di bioetica, lo vedete rappresentato qui in una foto dell'epoca, che uscì sul settimanale, sul periodico Newsweek in America e che fu intitolato il Comitato di Dio, con questi toni un po' giornalistici, un po' scandalistici, perché i componenti che vedete qui ritratti rimasero sempre anonimi, questo per prevenire possibili ricatti o possibili pressioni o possibili corruzioni. Quindi il compito di questo comitato fu di stirare i criteri di priorità per far accedere le persone alla macchina per la dialisi. La cosa, come potete capire facilmente, risuona oggi in maniera molto diversa rispetto a quando proponevo questo esempio qualche anno fa, perché gli stessi problemi li abbiamo visti recentemente, purtroppo anche con la crisi dovuta al Covid-19, con le priorità che abbiamo dovuto gestire, per esempio, nei reparti di terapia intensiva. E anche lì, come abbiamo affrontato la questione, dopo un primo momento, producendo delle linee guida per poi venire un po' a patti con quella che era la situazione. Capite bene che in entrambi i casi, dunque, il modello di relazione tra innovazione tecnologica e riflessione etico-politica-sociale che si accompagna all'innovazione è tutta fondata sul concetto di reazione. Cioè, prima arrivo la tecnologia e dopo si pensa alle conseguenze di questa tecnologia dal punto di vista etico o dal punto di vista sociale. Ecco, naturalmente si può fare molto meglio di così, e già nel passato l'innovazione è stata gestita in modi molto diversi. Uno degli esempi più citati nella letteratura, un esempio molto famoso, è la famosa conferenza di Asilomar del 1975 sul DNA ricombinante. Le tecnologie del DNA ricombinante sono delle tecniche, delle tecnologie che consentono, semplificando moltissimo, di unire il genoma di due esseri viventi. Con alcune limitazioni, però al tempo erano rivoluzionari, e questo suscitò naturalmente molte preoccupazioni, sia in seno alla comunità scientifica, sia in seno alla società. Quindi un gruppo di scienziati si radunò in questa conferenza, appunto la conferenza di Asilomar, nella quale chiamò non solo altri esperti, ma anche dei giornalisti, quindi delle altre figure che consentissero di far uscire le decisioni prese in questo consesso, in questo ambiente limitato, per poi divulgarle presso la società, e il risultato della conferenza furono delle linee guida che la comunità dei ricercatori si diede per cercare di gestire la governance di queste tecnologie che avevano a che fare con il DNA ricombinante, mettendo dei limiti a quello che, secondo loro, era giusto fare o non fare. Ora, a dispetto di prima, capite che questo è invece un modello molto diverso, più basato, in un certo senso, sulla prevenzione. Cioè si anticipa una nuova tecnologia, si cerca di prevedere e immaginare quali ne potrebbero essere le implicazioni dal punto di vista sociale, etico, politico o quant'altro, e quindi si arriva a stilare delle linee guida che magari aiutano la comunità stessa dei ricercatori a condurre una innovazione in maniera responsabile. A che punto siamo oggi? Lo vedete qui in questa slide. Questa è una slide che io ho preso da un progetto europeo, o meglio, dalla guida per i progetti europei del precedente programma quadro dell'Unione Europea. Era il grande programma quadro Horizon 2020 con il quale sono stati finanziati moltissimi progetti di ricerca a livello europeo. E questa è una slide tratta proprio dal manuale che aiutava i vari consorsi di ricerca, a volte anche molto grossi, a preparare l'application, quindi la richiesta di fondi per poi competere per ottenere questi fondi in sede europea. La cosa che dovete vedere qui è che è un diagramma abbastanza complicato. Ma questo perché? Perché oggi la gestione dell'innovazione, soprattutto a livello dei paesi occidentali e soprattutto in Europa, in realtà ha un approccio molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Non è più basato né sulla reazione né solo sulla prevenzione. Ma è per così dire un approccio by design. Cioè un approccio nel quale l'etica entra a far parte della progettazione, gestione, divulgazione della ricerca scientifica, del progresso tecnico scientifico in tutte le fasi. Dalle primissime che precedono il ricevere i fondi per partire con un processo di ricerca fino a dopo, quando si è già concluso il progetto, si hanno i primi risultati e quindi tocca divulgare e seguire come dire il cammino della tecnologia, di questa innovazione o di una nuova scoperta nella società. E guardate che questo modello è un modello molto stretto, in parte molto burocratico, ma che ha regole oramai rigidissime per quanto riguarda le questioni di etica e di gestione dei profili sociali dell'innovazione, almeno a livello europeo. Tanto è vero che io sono stato per esperienza personale revisore in alcuni progetti europei, tra cui uno di 10 milioni e questo progetto aveva avuto dei problemi a livello europeo perché durante una di queste fasi, di queste barre che vedete lungo il completamento del processo di questo progetto di ricerca, il comitato di revisione interno dell'Unione Europea aveva sollevato alcune perplessità che riguardavano l'aderenza ai codici di etica piuttosto che alcune domande che erano sorte e che prima non erano state anticipate. Bene, il consorzio si è fermato, ha dovuto chiamare un esperto esterno, io più un altro esperto, per risolvere questi problemi e fino a che i problemi non sono stati risolti, quello che l'Europa faceva era tenere sostanzialmente i futuri finanziamenti del progetto, cioè letteralmente non partivano gli stipendi al consorzio se prima non venivano risolti i problemi che erano stati sollevati dal comitato interno di revisione etica. Questo per farvi capire che oggi abbiamo veramente un modello integrato. Oggi scienza ed etica non sono più due realtà che si rincorrono, ma sono diventate parte di un unico modello della gestione responsabile della ricerca e dell'innovazione scientifica. È un modello dunque fondato sull'integrazione, quello che abbiamo oggi, eppure naturalmente è molto meglio di quelli precedenti, però anche questo modello ha oramai raggiunto dei limiti e i nuovi limiti si vedono perché sono arrivate delle innovazioni e delle scoperte così straordinarie, così collocate su una scala che era inimmaginabile fino a pochi anni fa, che nemmeno questo modello integrato che segue la ricerca passo a passo è più sufficiente. Perché non è più sufficiente questo modello? Beh, la prima cosa è la scala dei problemi. Noi abbiamo creato un mondo in pochissimo tempo che è diventato globale in cui le tecnologie fanno dei passi avanti da gigante. Se vi state chiedendo, magari ve lo siete mai chiesti, fino a quando può sperare di vivere oggi un essere umano, secondo le liste che sono state verificate, uno delle persone più anziane che sono esistite e di cui si ha l'età certificata oggi è un signore giapponese che ha più di 117 anni. Ve lo dico perché? Perché immaginate quanto è straordinaria la cosa che vi sto dicendo. Questo signore era vivo il giorno in cui i fratelli Wright hanno fatto volare il primo aereo di legno praticamente, carta pesto, in cui l'umanità ha imparato a volare ed era vivo qualche giorno fa quando siamo riusciti a far volare il primo elicottero su Marte. Quindi siamo passati da una specie che nell'arco della vita di una sola persona è riuscita a imparare a fare il primo volo a volare su un altro pianeta. Questa è la scala con cui ci stiamo confrontando. Nell'arco di una sola vita e di una sola generazione l'accelerazione e la diffusione delle tecnologie hanno ormai una velocità impressionante. E poi abbiamo nuove domande. Abbiamo nuove domande perché rispetto al passato le tecnologie che oggi sono disponibili per riuscire a modificare la vita oppure per fare delle predizioni come nel campo dell'intelligenza artificiale erano letteralmente inimmaginabili fino a pochi anni fa. Che cosa vuol dire letteralmente inimmaginabili? Vuol dire che se voi andate a vedere i film di fantascienza cioè letteralmente l'immaginazione cristallizzata nel corso degli anni precedenti degli autori che allora si immaginavano come avrebbe dovuto essere il futuro di oggi vedete che queste predizioni sono in larga parte errate in alcuni casi per fortuna naturalmente ma in molti casi sono sorpassate cioè le tecnologie le domande che sono state immaginate anche solo vent'anni fa come futuribili come fantascientifiche oggi sono completamente obsolete. Oggi parleremo nei minuti insomma che ci rimangono in questo webinar di una tecnologia in particolare perché io credo che sia veramente una delle chiavi fondamentali per capire l'accelerazione incredibile che ha avuto l'innovazione tecnico-scientifica negli ultimi anni sono le tecniche di editing del genoma beh voi sapete in pratica che qualsiasi essere vivente è composto da cellule e dentro ogni cellula c'è un nucleo dentro ogni nucleo c'è il codice genetico c'è il DNA c'è il genoma bene chi controlla il genoma ovviamente controlla la vita e noi abbiamo sempre provato a controllare e modificare i genomi delle creature degli altri organismi che coabitavano e condividevano con noi gli ambienti nei quali ci trovavamo ad evolvere e anche evolvere con loro e lo abbiamo fatto perché l'ambiente con noi è sempre stato molto ostile noi non abbiamo zanne pelliccia abbiamo la capacità però di cooperare tra di noi e questo ha fatto sì che riuscissimo comunque ad avere un successo evolutivo come specie straordinario ma soprattutto nel corso degli ultimi millenni e anzi io direi nel corso degli ultimi secoli siamo diventati tantissimi sul pianeta prima eravamo relativamente pochi proprio in termini di persone di esseri umani quando abbiamo cominciato a padroneggiare le tecnologie e quindi il progresso e il metodo scientifico come abbiamo fatto a modificare fino a oggi le creature accanto a noi tramite selezione artificiale lo aveva già intuito molto bene Darwin e qui siamo riusciti a passare per esempio da il ferocissimo lupo che trovavamo accanto a noi a questo adorabile cagnetto pomeranian come si fa a passare da uno all'altro sembra incredibile lo si fa con la selezione artificiale ovviamente cioè tu tra tutti i lupi prendi prima quello più docile e fai riprodurre in maniera selettiva solo quello magari con un altro esemplare molto docile anche lui poi vuoi altre caratteristiche vuoi una taglia più piccola fai riprodurre in maniera selettiva solo i lupi molto più piccoli quelli di taglia ridotta e così per tentativi ed errori nel corso di moltissime generazioni si riesce a passare di fatto a una selezione di tipo artificiale da un lupo molto feroce che possiamo incontrare che ha una traiettoria evolutiva ormai distante dalla nostra a un'altra creatura per esempio come i cani da compagnia che invece ha caratteristiche completamente diverse ma che sono state selezionate dagli esseri umani perché rispondevano a un desiderio che noi avevamo in una direzione piuttosto che nell'altra noi abbiamo quindi sempre giocato con i genomi delle creature accanto a noi e questo vale anche per la frutta e la verdura era diversissima solo pochi secoli fa molti frutti erano pieni di buccia con semi molto grossi noi oggi siamo arrivati a produrre frutti che non hanno più semi e li produciamo grazie a delle tecniche perché rispondono meglio al nostro gusto ma li abbiamo modificati in maniera profondissima ora però questa selezione artificiale è completamente obsoleta questo è il passato quello con cui ci stiamo confrontando oggi è questo CRISPR-Cas9 e le tecniche simili che cos'è CRISPR-Cas9 è una delle scoperte più radicali nella storia dell'umanità e forse della vita sul nostro pianeta è una scoperta fatta per caso che ci dice anche un po' come funziona la scienza che molto spesso procede per passaggi casuali o per scoperte casuali per serendipità ed è stata una scoperta effettuata mentre si studiavano i meccanismi di difesa dei batteri dai virus e allora si è visto che i batteri hanno un complesso proteico in questo caso appunto CRISPR-Cas9 e insieme ad altri tipi di meccanismi molecolari che consente loro di tagliare e inserire con precisione il DNA dei virus in maniera da riconoscerli poi nel futuro ed essere pronti per riuscire a difendersi qual è l'innovazione incredibile? che si è scoperto che questo complesso molecolare funziona bene non solo per questa funzione ma in teoria per qualsiasi altra è una sorta di forbice che consente oggi ai ricercatori di individuare un preciso segmento sul DNA di un genoma per esempio un preciso segmento in un genoma tagliarlo e poi possiamo sostituirlo o modificarlo o eliminarlo faccio questo paragone che secondo me chiarisce di molto di che cosa stiamo parlando e a me piace molto quando parliamo di queste tecnologie noi oggi sappiamo che il codice della vita è appunto un codice quindi è una sequenza di nucleotidi e nel corso degli anni siamo diventati molto bravi a leggerle in maniera sempre più precisa e sempre più veloce quindi oggi è possibile sequenziare il DNA di qualsiasi essere vivente alcuni sono più lunghi alcuni più complessi ma oggi riusciamo a farlo in maniera molto precisa e a costi relativamente contenuti lo sviluppo dei vaccini Pfizer e Moderna per il Covid-19 per esempio è stato così veloce perché rispetto al passato siamo riusciti a sequenziare la sequenza genomica del virus quasi subito a condividerla tra le comunità dei ricercatori e poi a sviluppare dei vaccini che conoscendo quali erano i meccanismi le caratteristiche a questo livello del virus potevano andare direttamente a interferire con alcuni meccanismi e infatti sono molto efficaci oggi bene questo era fino a pochi anni fa la capacità di saper leggere il genoma CRISPR-Cas9 è come se aggiungesse a questa capacità che avevamo la funzione che c'è nei fogli di testo come Word quando scriviamo al computer cerca trova e sostituisci quindi grazie a CRISPR-Cas9 oggi siamo in grado di identificare delle porzioni e di dire esattamente cerca queste porzioni taglia e cuci a questo livello e se vogliamo inserire dei geni o delle porzioni oppure silenziarne altre quindi capite che abbiamo di fatto la possibilità uno strumento di editare il genoma di qualsiasi essere vivente dai batteri alle piante dagli animali all'uomo e di farlo in maniera che è molto superiore a quella della selezione artificiale di prima voglio farvi vedere questa tabella io sono stato recentemente intervistato all'interno di un progetto europeo che cerca di intervistare degli esperti che lavorano nel campo dell'etica della scienza proprio sulle implicazioni future di queste tecnologie che cosa può fare CRISPR-Cas9 e cosa possiamo immaginare di utilizzare queste tecnologie ecco io in questa intervista ho dovuto fare questo esperimento e cioè di dire quali tra questi otto scenari mi sembravano più realistici e più o meno desiderabili ve li traduco la prima era lo sviluppo nelle persone di nuove terapie che potessero grazie a queste tecniche cercare di sconfiggere il cancro in maniera precisa e anche le malattie genetiche il secondo scenario era la nascita in vitro quindi il laboratorio di un embrione umano modificato geneticamente scusate con queste tecniche il terzo scenario era una nuova specie di insetti modificati con queste tecniche che potesse essere resistente agli insetticidi per fini di agricoltura e che potesse cambiare il DNA di tutta una specie in pochissimi passaggi un caso che vedremo dopo il quarto scenario era il trapianto di organi che sono stati modificati geneticamente per evitare qualsiasi rigetto il quinto era la commercializzazione di nuove specie piante o animali che sono state modificate con queste tecniche magari per fini alimentari magari per agricoltura magari per avere degli animali che hanno delle caratteristiche diverse il sesto scenario era una ricerca che veniva condotta su dei primati quindi delle scimmie alterate in maniera a livello appunto del genoma con queste tecniche per riuscire a studiare alcune malattie e disordini cognitivi nell'uomo quindi la produzione di modelli animali in questo caso delle scimmie create apposto nel laboratorio per studiare le malattie umane a livello cognitivo il settimo erano alcuni cavalli che avevano una muscolatura potenziata grazie a queste tecniche quindi erano capaci di correre più velocemente e l'ottava era la produzione di cani per compagnia quindi di altri animali appunto in funzione di compagnia per sostanzialmente di essere umani che sono stati modificati per essere più calmi e più giocosi ecco io credo che la cosa incredibile di questo esercizio è che io ho segnato che tutti questi sono scenari più che realistici non ci sono scenari irrealistici qua e molti di questi sono già stati di fatto testati nella realtà se vi poteva sembrare incredibile pochi anni fa oggi molti di questi scenari sono in realtà non realistici sono semplicemente la realtà ci sono molti studi che stanno venendo condotti precisamente con una o più di queste finalità e alcuni li vedremo fra poco la scala desiderabile e indesiderabile è chiaramente molto più complicata da decidere io nella mia scala di desiderabilità ho messo la cura delle malattie genetiche e del cancro al primo posto e all'ultima credo di aver inserito i cavalli o i cani insomma delle cose che non hanno ampie applicazioni per il benessere umano o nell'ambiente o di altre specie a che cosa ci può servire questa tecnica se riassumiamo questi scenari in tre concetti semplici a che cosa ci può servire una tecnica appunto come CRISPR-Cas9 o le tecniche di editing del genoma beh la prima cosa è per conoscere quindi queste tecniche sebbene aprono scenari che fanno un po' di paura aprono un po' alle vertigini in realtà sono tecniche che ci consentono oggi di fare cose straordinarie la prima appunto conoscere meglio alcuni dei meccanismi fondamentali della vita a livello biologico sappiate che noi oggi forse lo sapete anche meglio di me in realtà abbiamo imparato a conoscere moltissime cose del mondo che ci circonda ma moltissime cose noi oggi le ignoriamo ancora questo è vero per la natura della coscienza per la natura della materia dello spazio-tempo a dimensioni molto piccole quindi nel molto piccolo e nel molto grande ed è vero anche per tanti processi basilari a livello molecolare e biochimico che presiedono di fatto alla vita biologica e alla nostra stessa vita ora queste tecniche ci consentono di fare una cosa incredibile cioè di fare degli esperimenti che prima non potevamo fare oggi noi possiamo per esempio chiederci che funzione ha un gene e come possiamo fare a rispondere a questa domanda semplicemente magari in una cellula in laboratorio decidiamo di togliere quel gene e di osservare che effetti si producono quindi siccome è molto potente questa tecnica perché si conosce per differenza grazie a queste tecniche noi possiamo scoprire stiamo scoprendo moltissime cose perché ci consentono appunto di aggiungere a volte delle porzioni al genoma dei segmenti a volte di toglierle a volte di accenderle a volte di spegnerle a volte di cambiarle a volte di cambiarle posto e di vedere così che effetti risultano e capendo la differenza che si produce riusciamo a capire un po' quei meccanismi magari quelle parti del genoma di che cosa sono responsabili a livello fenotipico quindi dal genoma a quello che possiamo osservare appunto il fenotipo quindi una delle prime cose per cui queste tecniche sono state percepite come una vera rivoluzione è che sono una rivoluzione anche conoscitiva naturalmente questo si porta con sé molte implicazioni e qui torniamo a uno degli scenari che vi ho presentato prima la creazione di primati per studiare malattie e disordini cognitivi nell'uomo grazie a queste tecniche quelle che osservate qui sono 5 scimmiette adorabili ma che hanno un genoma molto particolare sono nate in Cina qualche anno fa e sono state prodotte esattamente per quella finalità per studiare alcuni disordini che riguardano i ritmi del sonno e della veglia come hanno fatto hanno combinato tra loro tre tecniche che vent'anni fa erano impensabili la prima è la fecondazione in vitro quindi sono embrioni che sono stati creati in laboratorio la seconda cosa è CRISPR-Cas9 quindi è stata utilizzata la tecnica di prima per spegnere un particolare gene e la terza è la clonazione quelle che vedete qua sono 5 scimmie geneticamente identiche che servono per creare un modello sperimentale ora conoscitivamente questo è molto interessante ovviamente perché ci consente di fare degli esperimenti che altrimenti non avremmo potuto fare ma dall'altro lato dobbiamo anche porci delle domande molto serie di etica e di morale chiunque di noi è stato insonno e anche per una sola notte sa quanto può essere in un certo senso letteralmente doloroso non riuscire a dormire o a sentirsi mai riposati immaginate a non poterlo fare mai per tutta la vostra vita questa è una condizione probabilmente molto simile a quella che queste 5 scimmiette hanno vissuto naturalmente beneficio dal punto di vista conoscitivo ma grandi domande morali ne vale la pena è giusto utilizzare queste tecniche per arrivare fino a questi punti o se sì poi qual è il confine che dobbiamo rispettare la seconda cosa è naturalmente curare noi oggi sappiamo che ci sono almeno più di un migliaio di malattie che dipendono da un piccolissimo errore nel genoma e queste malattie hanno effetti devastanti su milioni di persone sono le malattie genetiche che fino ad ora abbiamo imparato a conoscere poi quando abbiamo imparato a leggere il codice della vita il genoma abbiamo imparato a capire in molti casi naturalmente non in tutti perché si producono qual è il problema a livello proprio del genoma ma fino ad ora non abbiamo avuto delle terapie che ci consentissero di correggere direttamente all'origine questo possibile difetto oggi invece grazie a queste tecniche potremmo avere per come dire parafrasare una frase famosa del Signore degli Anelli una sola tecnica per dominarle tutte cioè con una sola tecnica perfezionata come CRISPR-Cas9 e tecniche che poi sono state scoperte in seguito ma che sono di fatto molto simile a CRISPR-Cas9 sempre di editing del genoma oggi noi possiamo sperare di curare tutte queste malattie e di cancellarle eliminando una quota di sofferenza inimmaginabile per milioni di persone per le generazioni future e per i genitori e le famiglie e le persone che sono coinvolte affettivamente in queste che sono vere e proprie tragedie che a volte possono colpire una famiglia a volte in modo inaspettato ecco grazie a queste tecniche che noi potremmo finalmente prendere in mano la situazione e per la prima volta riuscire a eliminare queste malattie ci sono molti studi in corso alcuni estremamente promettenti e i progressi sono velocissimi la speranza è quella di utilizzare queste tecniche e questo è un altro degli scenari prefigurati prima non solo per le malattie genetiche rare ma anche per curare altre patologie che ancora oggi sono tra i grandi killer responsabili di decine di milioni se non centinaia di milioni di morti ogni anno e mi riferisco naturalmente tra le tante anche alle malattie tumorali per cui Fondazione Martoveronesi ha da sempre un'attenzione particolare perché è una delle aree di ricerca che noi finanziamo di più ecco noi oggi stiamo provando a utilizzare queste tecniche di editing del genoma per cercare di educare il nostro sistema immunitario tramite quelle che sono le tecniche oggi di frontiera dell'immunoterapia per addestrarlo a riconoscere le cellule cancerogene che in qualche maniera riescono sempre a sfuggire al controllo del nostro sistema immunitario e cercare di distruggerle e secondo alcuni potremmo addirittura prefigurare uno scenario per cui fra 50 60 anni speriamo molto prima speriamo che però sia uno scenario veramente realistico forse potremmo curare queste patologie come oggi andiamo dal dentista una sola volta una iniezione dopodiché grazie a la prevenzione a corretti stili di vita potremmo lasciarci alle spalle della nostra specie anche queste patologie terribili e poi naturalmente ci sono funzioni diverse ma non meno importanti e qui voglio aprire una piccola parentesi ma c'entra con gli scenari che abbiamo visto prima e quello di cui stiamo parlando e cioè una parentesi che ha a che fare con la salute pubblica in questo caso con un problema gigantesco che è quello della malaria la malaria ancora oggi uccide oltre le 400.000 persone ogni anno prima ne uccideva molti di più solo pochi anni fa qualche decina di anni fa parlavamo di quasi un milione di persone e prima anche di più soprattutto nelle aree più povere del pianeta il 67% dei morti sono bambine e bambine sotto i 5 anni di vita oggi per la malaria la cosa drammatica è che a differenza di altre malattie genetiche rare a differenza del covid per il quale noi abbiamo oggi vaccini ma non delle terapie di cura molto efficaci per la malaria noi abbiamo le medicine noi sappiamo perfettamente come si cura la malaria in maniera molto efficace se qualcuno di noi si reca fa la profilassi antimalarica o è sfortunato e prende la malaria nelle zone in cui è ancora endemica se viene curato per tempo ha altissime probabilità di guarire in maniera piena dall'infezione causata dalla malaria il problema è che non siamo abbastanza bravi a curare tutti quindi noi conosciamo la cura ma non riusciamo ancora a curare tutte le persone che muoiono ogni anno per questa malattia che di fatto è già una malattia curabile fortunatamente negli giorni scorsi è uscita la notizia che forse i trial che stanno conducendo gli studi su un vaccino antimalarico finalmente dà ottimi risultati quelli che erano in sperimentazione prima avevano un'efficacia che non era molto alta ma gli ultimi sembrano molto più efficaci questo cosa significa che anche stando alle migliori previsioni cioè se centrassimo tutti gli obiettivi dell'organizzazione mondiale della sanità non riusciremo a combattere e eliminare la malaria prima di diversi anni questo significa milioni di vite perso però oggi noi abbiamo una nuova tecnica collegata a CRISPR-Cas9 e alle sue possibili applicazioni che forse ci consente di avere un'arma anche qui impensabile fino a pochi anni fa voi sapete che la malaria si trasmette come? attraverso un parassita che è il plasmide e ci sono varie specie ma soprattutto tramite appunto quelli che sono i vettori del plasmide e cioè le zanzare di una specie particolare in particolare le anopheles gambie ci sono diverse specie di zanzare che sono vettori ma in particolare la malaria viene trasportata da questo vettore da questo artropode che è l'anopheles gambie per cui una delle soluzioni oggi molto efficaci per combattere la malaria oltre alle terapie oltre alla prevenzione sono le reti queste qua che vedete in questa foto che vengono distribuite con sopra l'insetticida che proteggono dalle punture nelle zone del giorno nei periodi del giorno in cui le zanzare sono più attive e questo ha avuto una grossa efficacia ha salvato moltissime vite però appunto noi oggi abbiamo un'altra tecnica cioè quella appunto dell'editing del genoma come si può usare CRISPR-Cas9 in questo caso per provare a salvare questi milioni di vite lo si fa così lo si fa perché abbiamo scoperto già da un secolo però appunto con queste rivoluzioni delle scienze della vita e soprattutto una rivoluzione degli ultimi anni quella che ha cambiato concretamente le carte in tavola abbiamo scoperto che ci sono dei meccanismi biologici di eredità sbilanciata ve lo spiego nella maniera provo a farlo nella maniera più semplice possibile voi sapete che normalmente le leggi dell'ereditarietà mendeliana fanno sì che si ereditino la metà dei cromosomi dal padre e la metà dalla madre questo è un sistema appunto di eredità mendeliana nella quale si ha 50% di possibilità di ereditare una parte dalla madre e una parte dal padre e lo vedete rappresentato qui nella immagine a sinistra quindi se uno dei due genitori ha un gene modificato immaginiamo con CRISPR Cas9 per esempio per evitare di trasmettere l'infezione da malaria può essere una delle modifiche che vogliamo introdurre se abbiamo questo sistema di eredità bilanciata questo gene si trasmetterà da alcune delle progenie cioè alcuni dei fidi sostanzialmente però non si trasmetterà mai a tutta la popolazione delle zanzare quindi questo intervento non sarà molto utile noi oggi sappiamo che però ci sono dei meccanismi diversi di gene drive che consentono di propagare arrivando fino al 100% di un'intera popolazione un solo gene modificato che cosa significa in concreto vuol dire che noi possiamo prendere una piccolissima popolazione di zanzare modificale con CRISPR Cas9 in un determinato modo e poi grazie a questi meccanismi di gene drive cioè la modifica deve essere fatta in associazione a questi meccanismi se rilasciamo queste zanzare nell'ambiente in pochissimo tempo tutta la specie delle zanzare avrà la stessa modifica questo lo hanno fatto negli anni precedenti oggi le sperimentazioni sono già avanzate e hanno provato a fare diverse cose per esempio rendere tutte le zanzare che nascono progressivamente sterili oppure tutte femmine oppure incapaci di trasmettere la malaria ci sono infinite probabilità e possibilità qui che possano essere pensate gli studi hanno dimostrato che queste tecniche hanno un'efficacia importante e potremmo già utilizzarle tanto è vero che ci saranno delle sperimentazioni che partono a giugno di quest'anno cioè fra pochi mesi con zanzare modificate per ridurne la popolazione in America in alcune zone paludose quindi come vedete non sono scenari più o meno realistici sono scenari fra un mese fra due mesi queste tecnologie sono già qui tra noi e queste tecniche di gene drive ci consentono in breve di cambiare intere specie modificare il laboratorio pochi esemplari e poi rilasciarle nell'ambiente e modificare intere specie ci sono dei problemi naturalmente anche qui di tipo etico uno bisogna chiedere alle popolazioni locali se sono d'accordo o meno con questi interventi o ne preferiscono altri e poi perché ci sono domande di bioetica un conto è modificare delle zanzare un conto è modificare una specie senziente come per esempio dei primati però in teoria almeno in teoria queste tecniche possono essere utilizzate anche per modificare intere specie di primati oppure specie di piante per uso agroalimentare e poi ci sono domande che riguardano la biodiversità e l'ecosistema cioè utilizzare tecniche per estinguere di fatto una specie in questo caso solo una sono più di 1200 almeno le specie di zanzare conosciute qui si parla di una piccola specie beh la biodiversità voi sapete che è stata ridotta drammaticamente nel corso del nostro sviluppo soprattutto recente per cui possedere una tecnologia che consente di accelerare ulteriormente la scomparsa di alcune specie della biodiversità è un qualcosa che deve essere maneggiato naturalmente con grande attenzione se vi interessa questo tema in particolare trovate uno dei quaderni del comitato etico di fondazione Umberto Veronesi che si dedica proprio all'analisi spiegata in maniera completa scientificamente fondata ma anche semplice libera e accessibile a tutti trovate questo quaderno proprio dedicato a questo tema che si chiama Gene Drive e responsabilità ecologica e poi un articolo che starà per uscire credo nel numero del prossimo mese quindi parliamo di maggio 2021 su queste riviste di Biolo Biolo Journal scritto da me e Telmo Pievani precisamente sulle conseguenze etiche di queste tecnologie terzo scenario poi ci avviamo alla conclusione migliorare naturalmente quando abbiamo queste tecniche come abbiamo visto che ci consentono di curare le malattie togliendo degli errori o correggendori un altro degli usi possibili è quello di utilizzare queste tecniche per cercare di migliorare le future generazioni qualche anno fa un scienziato eminente che lavora nel campo delle scienze della vita diceva in un TED Talk che trovate facilmente online di immaginare il seguente scenario essere a casa vostra e vedere davanti a voi due bambine una è vostra figlia l'altra è la figlia di un'altra coppia vostra figlia è una bellissima bambina è nata con i processi della riproduzione sessuale normale con i quali siamo nati nella maggior parte dei casi tutti noi non in tutti anche oggi ci sono persone nate grazie alla fecondazione in vitro per esempio però insomma come è nata secondo i meccanismi dell'ereditarietà è attraverso la riproduzione sessuale l'altra bambina invece è nata grazie all'utilizzo anche di queste tecniche utilizzate in funzione migliorativa voi adorate vostra figlia ma non potete fare a meno di notare che l'altra bambina ha qualcosa di diverso ha cominciato a parlare molto prima quindi ha imparato subito senza alcuno sforzo molte lingue per esempio ha un colore degli occhi di un azzurro magnifico che non avete mai visto in nessun'altra persona non si ammala mai si stanca di meno i genitori di molte capacità è inevitabile pensare che se dovessero competere in una competizione sportiva le due bambine dopo dieci anni è certo che vincerebbe l'altra e quindi anche nel futuro poi se dovessero competere per una posizione magari lavorativa è molto difficile che a parità di condizioni le persone nate tramite i meccanismi della riproduzione sessuale quindi con anche una sorta di elemento di casualità delle caratteristiche che vengono generate possono competere con persone disegnate una volta che queste tecniche sono o verranno perfezionate ora se vi interessa c'è un sito del Harvard Molecular Lab che ha già visto oggi quello che si può fare lo dico subito questa fortunatamente in parte è ancora fantascienza ma non del tutto perché già conosciamo alcune cose mentre non ne conosciamo tantissime il genoma è ancora un grandissimo mistero molte cose noi non le conosciamo e non sappiamo bene a un certo genoma che cosa corrisponde a livello fenotipico cioè quale relazione hanno i geni che noi possiamo anche sequenzare e poi le caratteristiche che poi possiamo osservare negli organismi che quel genoma lo hanno però alcune le conosciamo e questo laboratorio di Harvard ha già fatto una lista di alcune modifiche possibili che conosciamo cioè che sono ben localizzate e che sappiamo che cambiando un gene con un altro possiamo ottenere alcuni effetti questi hanno vantaggi e svantaggi qui ne vedete alcuni per esempio alcuni geni noi sappiamo proteggono da alcune malattie però magari aumentano il rischio di altre malattie alcuni geni consentono alle persone di dormire meno ore rispetto ad altre e però non hanno grandi effetti negativi sapete che alcune persone hanno bisogno di otto ore altre di molto meno a volte anche di quattro ore basta per riuscire a funzionare in maniera normale e magari questo un giorno potrà essere oggetto di una certa scelta si possono avere delle ossa fortissime molto più resistenti della media questo è il primo caso che vedete qui però dall'altro lato se si hanno questo tipo di ossa si ha anche una minore capacità di galleggiare dell'acqua quindi insomma è una cosa per far vedere un po' quello che sappiamo oggi ma è una cosa interessante perché io credo assomiglia già in maniera forse un po' preoccupante a una sorta di menù se tutto questo vi sembra fantascienza e un po' fa paura e un po' ci sembra molto lontano in realtà purtroppo dovrete cambiare opinione perché grazie e a demerito di questo signore che è uno scienziato cinese spero di pronunciare bene il nome He Jiankyu due anni fa e poco più abbiamo già assistito alla nascita secondo lui delle prime due gemelline che sono state modificate grazie a CRISPR-Cas9 quindi secondo quanto annunciato in questa conferenza questo è il momento dell'annuncio da questo signore i primi esseri umani cui gli embrioni sono stati modificati geneticamente con queste tecniche sono già tra di noi ora questo annuncio ha sollevato moltissime polemiche e questo signore oggi io credo che sia in carcere sicuramente non si occupa più di ricerca scientifica e questo ha buon ragione perché beh perché questo esperimento che è stato compiuto è stato un esperimento del tutto poco etico primo perché è stato un esperimento inutile secondo lo scienziato gli embrioni di queste due gemelline sono state modificate per evitare che il virus dell'HIV di cui erano affetti i padri si trasmettesse alle bambine ma noi oggi abbiamo già tante altre tecniche che ci consentono in maniera molto meno avventurosa di raggiungere lo stesso scopo per cui non era necessario ricorrere a tecniche innovative come CRISPR-Cas9 che non erano mai state utilizzate prima in esseri umani e poi è stato un esperimento pericoloso CRISPR-Cas9 è molto più economico molto più facile da usare e molto più preciso di qualsiasi altra tecnica abbiamo mai avuto a nostra disposizione ma non è una tecnica perfetta nelle cellule che vengono trattate con questa tecnica oggi ci sono tecniche ancora più precise ma parliamo di quell'esperimento lì si osservano alcuni fenomeni per esempio il mosaicismo per cui alcune cellule sono in parte editate e in parte no oppure di eventi off target per cui CRISPR-Cas9 edita quasi tutto in maniera corretta ma alcune cose le edita in altre parti del genoma e quindi questo porta negli effetti che sono impredittibili ma chi avrà il coraggio di dire a queste bambine se magari avranno dei problemi cardiaci dei problemi cognitivi dei problemi di salute che in realtà non c'era nessun bisogno di utilizzarle come le prime cave umane per questo esperimento che è stato del tutto irresponsabile naturalmente l'esperimento non è stato fatto per cercare di limitare il contagio dell'HIV è stato fatto perché questo signore potesse dire di essere stato il primo a infrangere questa barriera e non solo è stato anche paradossale un esperimento illegale perché lo stesso ricercatore aveva firmato un articolo che riguardava proprio l'etica della governance di questi esperimenti e il suo stesso esperimento ha violato tutti i punti che erano stati proposti in questo articolo cosa più preoccupante nessuno se ne è reso conto cioè prima vi ho fatto vedere il modello integrato che noi utilizziamo per la gestione della ricerca in Europa ma la soluzione oggi in un mondo globale è che per sfuggire a un modello così integrato semplicemente si può traslocare in un paese dove i controlli sono minori e oramai le tecniche lo consentono le informazioni sono reperibili dovunque con un investimento relativamente basso è possibile condurre altrove ricerche che dal punto di vista etico sarebbero proibite di fatto sul territorio di molti altri paesi nei quali il controllo la governance anche la burocrazia della ricerca ha una presa molto più stretta su quello che fanno i ricercatori e su come impiegano i loro fondi qual è il discrimine una delle questioni fondamentali poi oggi al centro proprio del dibattito sull'editing del genoma degli esseri umani è che ci sono due possibilità la prima è quella di intervenire sulle cellule somatiche cioè sulle cellule del corpo di una persona in questo caso l'esempio di prima è quello per esempio dell'immunoterapia per i tumori per cui utilizziamo queste tecniche e poi facciamo magari un'infusione e andiamo a inserire delle cellule editate a livello genetico dentro queste persone per cercare di curare delle malattie che hanno di fatto una base a livello genetico la seconda cosa però è di intervenire sulle cellule della linea germinale cioè sulle caratteristiche che sono ereditarie dell'umanità e questa è una problematica gigantesca da una parte possiamo eliminare dalla futura traiettoria dell'umanità malattie terrificanti come la Corea di Huntington oppure l'anemia falciforme facendo sì che le future generazioni non debbano mai più confrontarsi con queste patologie terribili dall'altro tutta la questione che ha a che vedere con il possibile potenziamento o miglioramento è molto più delicata per un motivo molto semplice non solo per i rischi e i pericoli ma anche perché di fatto nessuno può esprimere il proprio consenso cioè le future generazioni non possono esprimere oggi il loro consenso a questi interventi più o meno migliorativi se è lecito immaginare che non avrebbero niente in contrario rispetto alla rimozione di alcune malattie terrificanti è molto più dubbio che cosa ne potrebbero pensare rispetto alla lista da menu che vi ho fatto vedere prima vado a concludere adesso su alcuni punti per tirare come dire le fila di questo discorso di questa lunga carellata su alcune delle conseguenze etiche delle nuove tecniche che hanno a che vedere con l'editing del genoma io credo che la sfida sia da qui ai prossimi dieci anni dotarsi di un buon sistema di governance della ricerca tecnico-scientifica cioè far sì che non sia più possibile come nel caso degli esperimenti secondo me anche sui primati che abbiamo visto prima anche se qui si può avere un lungo dibattito ma sicuramente per quanto riguarda gli esperimenti degli esseri umani e sugli embrioni che poi vengono impiantati e le cui gravidanze vengono portate a termine dobbiamo far sì di dotarci di un sistema a livello globale cosicché non sia più possibile che esperimenti di questo tipo sfuggono al controllo della comunità dei ricercatori e della comunità anche allargata della società in sostanza perché le conseguenze potrebbero essere assolutamente disastrose e quindi dobbiamo dotarci nei prossimi dieci anni è imperativo di un migliore sistema di gestione di queste ricerche anche su questo tema abbiamo scritto un parere col comitato etico di fondazione Umberto Veronesi lo trovate gratuitamente online chiamato l'editing del genoma tra etica e democrazia il riferimento alla democrazia è importante perché come avrete capito i genomi che cammineranno su questa terra o strisceranno o nuoteranno o voleranno su questa terra fra cento anni li decidiamo in parte oggi come gestiamo la ricerca ho delle terplessità rispetto alla nostra capacità di metterci d'accordo le vediamo oggi con la crisi del covid-19 la scienza ha vinto la sfida della propria cooperazione riuscendo a produrre vaccini sicuri ed efficaci in pochissimo tempo come mai era avvenuto prima di oggi ma di fatto oggi la vera sfida è politica riuscire a mettersi d'accordo per produrre su larga scala questi vaccini e distribuirli soprattutto alle persone ai paesi più poveri senza i quali non potremmo sperare sul futuro di poter contenere il contagio e su questo la sfida è tutt'altro che vinta per cui capite che quando parliamo di sfide globali con le quali tutti devono essere d'accordo i problemi sono ancora grandi e dirrisolti e poi io credo dobbiamo fare un grossissimo sforzo di immaginazione pochi giorni fa abbiamo visto il lancio di nuovi astronauti per la stazione internazionale stazione spaziale internazionale e i piani molto concreti sono di tornare prima sulla Luna e poi in prospettiva su Marte e di diventare una specie multiplanitaria ma noi siamo spettacolarmente inadatti per questi ambienti come forse saremo inadatti agli ambienti che stiamo creando perché abbiamo danneggiato in maniera in parte forse già irreparabile il nostro ambiente e i nostri ecosistemi e quindi potrebbe essere che nel futuro ci sia l'occasione la proposta di modificare gli esseri umani per adattarli a un ambiente che nel mentre è cambiato moltissimo qua sul nostro pianeta oppure un ambiente per il quale non ci siamo di fatto evoluti per vivere in un ambiente simile come quello di Marte o quello di periodi prolungati nello spazio qui i limiti sono quelli dell'etica ma sono anche della nostra immaginazione mi preme sottolineare una cosa in chiusura a questo mio intervento noi abbiamo affrontato una prova molto difficile per tutti che è quella della pandemia dei vari lockdown più di un anno e mezzo di fatto di distanziamento sociale ed è un periodo nel quale abbiamo di fatto rinunciato a molte cose che sono fondamentali per la nostra cultura abbiamo chiuso i teatri molto spesso abbiamo chiuso le scuole abbiamo fatto sì che le arti rimanessero chiuse e secondo me questo in questo momento è un danno incredibile perché guardate i nostri limiti sono veramente quelli dell'immaginazione noi ci troveremo i bambini di oggi dovranno rispondere a domande come che specie vogliamo diventare che rapporto vogliamo avere con tutte le altre specie viventi a che livello vogliamo intervenire per cambiare interi ecosistemi grazie a queste tecniche che futuro vogliamo dare a questo pianeta e queste sono domande che non ammettono in realtà delle risposte preconfigurate ma che l'umanità ha provato sempre a rispondere a questi grandi interrogativi con la produzione di culture di più pensiero oggi abbiamo straordinari avanzamenti tecnici ma abbiamo disperatamente bisogno di più pensiero di parlarci di più di conoscere di più questi temi e di riuscire a confrontarci per avere delle buone risposte comune che ci consentano veramente di dare una risposta pratica e concreta a queste che saranno le sfide di domani ma come ho cercato di evidenziare in questo mio intervento che ora si avvia veramente la conclusione sono già le sfide di oggi queste tecnologie le vediamo già oggi l'ultima cosa è che dovremmo pensare anche alle questioni di giustizia perché naturalmente dipenderà chi avrà accesso a queste tecnologie per la cura per il miglioramento qui il riferimento fondamentale è ovviamente a Brave New World di Aldous Huxley che è un testo fondamentale perché già immagino una società nella quale sono tutti perfettamente nati per eseguire il compito che è stato loro assegnato questo prima era fantascienza oggi è una possibilità concreta in paesi democratici liberali forse molto lontana in paesi tanto meno liberali tanto meno democratici le tentazioni di controllare la futura come dire le future qualità della propria popolazione potrebbero essere molto più grandi e molto più preoccupanti portando di fatto delle differenze poi incolmabili tra chi ha accesso a queste tecnologie e chi invece non avrà accesso io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione chi ci segue là chi vedrà la registrazione per qualsiasi cosa potete fare riferimento ai miei contatti vi ringrazio abbiamo qualche minuto per le domande finali grazie grazie Marco innanzitutto ti riporto i diversi complimenti che insomma sono arrivati in fatto e continuano ad arrivare questo webinar davvero interessante e soprattutto anche grazie insomma a te e al modo in cui tratti questi argomenti molti docenti hanno detto che sicuramente insomma lo utilizzeranno come spunto assieme ai loro studenti insomma questo ci fa doppiamente piacere credo anche a te sono arrivate diverse domande sono qui insomma a portene qualcuna innanzitutto tu facevi vedere prima insomma quella non è una linea del tempo ma quella serie di azioni di controllo derivanti dal programma Horizon 2020 in cui c'era anche il check della commissione bioetica bene qualcuno ci chiede quale commissione organo di controllo europeo decide controlla la situazione delle restrizioni insomma ciò che ha a che fare con la bioetica e se esistono dei principi etici internazionali oppure ogni paese agisce per sé domanda molto pregnante molto complicata prima di rispondere credo di aver compiuto un piccolo lapsus ho chiamato il plasmodio plasmide quindi visto che siamo all'interno della registrazione posso avere l'opportunità di correggermi per arrivare alla domanda invece beh esiste naturalmente tutte le strutture interne proprio l'Unione Europea che sono le agenzie di finanziamento per la ricerca e all'interno di ogni progetto viene costruito un particolare una particolare unità che accompagna tutti i progetti oramai soprattutto quelli più grossi che si occupa in maniera dedicata e specifica per quel progetto lì delle conseguenze etiche sociali e politiche di quella tecnologia o di quel processo di innovazione quindi ci sono strutture a più livelli c'è anche un comitato di revisori interno all'Unione Europea che poi viene assegnato a seconda delle competenze per cercare di analizzare i vari progetti per quanto riguarda le leggi anche qui l'immagine è quella di più strati sovrapposti uno con l'altro ci sono leggi internazionali ci sono codici deontologici che quindi non sono sullo stesso piano delle leggi perché magari non sono vincolanti ma verso i quali i paesi hanno scelto di aderire quindi si fanno promotori di quei principi poi ci sono le commissioni e soprattutto per quanto riguarda la ricerca biomedica ci sono le approvazioni necessarie dei comitati per la sperimentazione clinica quando ci sono i soggetti umani e poi anche per i comitati per il benessere animale quindi non si possono condurre ricerche se prima non si fa un rigoroso processo di revisione etica e si ha letteralmente l'approvazione di un comitato dedicato di esperti che rivede e approva i vari progetti che vengono compiuti soprattutto per le sperimentazioni cliniche e che hanno a che fare appunto con gli animali anche per esperienza personale insomma che negli ultimi 15-20 anni tantissimo è stato fatto per normare ad esempio gli esperimenti che coinvolgono animali e tutte le procedure adesso sono davvero stringenti a livello europeo e quindi insomma l'Europa si sta muovendo molto bene in tal senso almeno questo lo posso dire proprio come testimonianza diretta poi tu hai fatto riferimento a un TED Talk molto suggestivo quindi qualcuno ti ha chiesto innanzitutto di quale TED Talk tu abbia parlato insomma qual è il TED Talk tu ti rischi e poi a margine ovviamente anche la domanda cioè fino a che punto è giusto che un genitore possa decidere del genoma del proprio figlio se davvero sono di nostra proprietà i bambini mettiamo al mondo parto dalla domanda più semplice che l'ultima no allora per quanto riguarda il TED Talk ho evitato di dire il nome di questo professore tedesco credo ma trovate il riferimento in un lo trovate sicuramente online e ha a che fare con Designer Babies cercandolo su YouTube credo che sia uno dei primi risultati in ogni caso potete scrivermi tranquillamente io controllo perché l'ho rivisto poco tempo fa sarò felice di darvi il titolo corretto oggi non volendo sbagliare evito di dire un titolo che magari non è esatto per quanto riguarda la seconda domanda io credo che lo scenario migliore sia quello dei genitori ma non credo che sia lo scenario improvabile lo scenario peggiore è quando ci saranno magari dei regimi più autoritari o stati più autoritari che vogliono con la scusa di eliminare alcune patologie nella popolazione intervenire sul futuro genoma di tutti i cittadini che appartengono a quegli stati e guardate che purtroppo non è uno scenario così remoto oggi ci sono stati che fanno di tutto per cercare di controllare i propri cittadini con qualsiasi mezzo immaginate avere dei cittadini che sono geneticamente programmati per essere ubbidienti per esempio noi oggi non lo possiamo fare perché naturalmente il genoma è molto più complicato ma sappiamo che ci sono delle relazioni con l'aggressività con altri tratti comportamentali come vi ho spiegato abbiamo fatto progressi così straordinari nel corso dell'ultimo secolo e poco più immaginatevi fra un secolo quindi dobbiamo veramente immaginare per il futuro la domanda se i bambini appartengono ai genitori non credo però credo che ci siano delle relazioni di responsabilità reciproca e naturalmente se fosse possibile invece curare una patologia io credo che lì avremmo un forte dovere per intervenire nella misura in cui queste tecniche dimostrano di essere sicure ed efficaci e laddove l'alternativa invece è portare una creatura un essere umano un bambino a nascere con patologie e con una vita che in alcuni casi veramente è molto difficile e pieno di sofferenze ecco in questi casi credo che sia un dovere da parte dei genitori cercare di fare quanto è possibile per cercare di evitare questa conseguenza poi ci sono insomma tutta una serie che di domande che riguardano gli OGM un po' generate anche se vuoi insomma dalla tua presentazione è da CRISPR qualcuno vuole sapere se gli organismi vegetali ottenuti tramite editing con CRISPR sono classificabili come OGM e qualcun altro poi chiede come mai qui in Europa diciamo gli OGM sono tipo uno spauracchio per i nostri decisori politici cioè non c'è nessuna determinazione a portarli come un avanzamento della scienza ma piuttosto vengono guardati con paura ma sicuramente sì perché sono organismi geneticamente modificati io credo che rientrino nella definizione se non altro allargata a livello filosofico poi naturalmente le leggi hanno delle particolari definizioni potrebbero definire le tecniche esclusive per cui si definisce un organismo geneticamente modificato e queste essendo così nuove potrebbero sfuggire alla definizione tecnico legale ma in senso allargato sicuramente sì perché fanno così paura ma io credo perché conosciamo troppo poco come funziona la vita e a che livello siamo arrivati con la scienza come vi ho fatto vedere con l'esempio del cane tutto il cibo che noi mangiamo è stato geneticamente modificato da noi solo che l'abbiamo modificato in un tempo più lungo perché non avevamo le tecniche che ci consentivano di farlo con maggiore precisione e maggiore sicurezza quindi naturalmente occorre procedere con tutte le garanzie con tutti i livelli di sicurezza con tutti i livelli ma non c'è niente che a livello di essenza rende un organismo geneticamente modificato diverso da un qualsiasi altro organismo che abbiamo modificato con altre tecniche di selezione artificiale è sempre selezione artificiale camera tecnica di selezione artificiale quindi io non credo che dovremmo mai avere paura degli organismi geneticamente modificati dovremmo vedere caso per caso di che organismo geneticamente modificato parliamo con quale tecniche per quale utilizzo e quali garanzie e dividenze abbiamo rispetto alla sua sicurezza o alle implicazioni che può avere per noi l'ecosistema e poi insomma mi piace chiudere con questa domanda so che la risposta sarà un po' di parte ci chiedono se non ritieni che la bioetica debba diventare una disciplina scolastica ma mi viene da dire insomma che è diventata una disciplina anche in ambito universitario nei corsi tipo di scienze biologiche davvero molto recentemente così anche nei corsi di medicina cioè sta entrando si sta facciando quindi nella scuola a tuo avviso assolutamente sì perché come ho cercato di mostrare veramente le ragazzine i ragazzini le bambine i bambini di oggi sono le persone che vedranno le conseguenze delle nostre decisioni spesso un po' maldestre su queste questioni così importanti di quello che di fatto decidiamo oggi e saranno loro che dovranno decidere veramente del futuro non solo della nostra specie e per la loro vita per loro stessi non conoscere queste tecniche significa arrivare anche a un certo punto della propria vita a confrontarsi con decisioni come quelle rispetto ai propri diritti riproduttivi senza avere neanche idea delle opzioni che oggi sono disponibili quindi io credo assolutamente di sì la bioetica deve diventare una materia di discussione ma un argomento di confronto più che la bioetica come disciplina se sono proprio i temi della bioetica che dobbiamo permeare diciamo il esatto della discussione comune ce l'auguriamo ma questo insomma nei libri di testo lo dico questa volta io che sono di parte stiamo cercando insomma di arricchire in tal senso la collaborazione con voi con te e proprio in questa direzione va bene io ti ringrazio Marco le domande stanno continuando ad arrivare ma siamo fuori tempo massimo quindi ringrazio ringrazio ancora tutti i docenti che sono ancora in linea ringrazio a te e Fondazione Umberto Veronesi per questo tuo intervento di oggi grazie a voi volevo rassicurare chi ci ha domandato riguardo le slide o la registrazione dell'evento che le slide saranno disponibili sul sito di Mondador Education nella pagina di lezione di scienza così come l'intervento del dottor Marco non sarà disponibile sul canale YouTube di Mondador Education nella playlist dedicata a questo ciclo di lezioni per chi di voi insomma volesse seguirci ancora in questa cavaltata il prossimo appuntamento è per venerdì 7 maggio con una giornalista e biologa Anna Mentolesi che ci parlerà per l'appunto di CRISPR un'invezione da Nobel per iscrivere genomi bravissima grazie a tutti grazie ancora a te Marco e buonasera grazie a voi per l'attenzione dell'invito grazie a tutti